Buongiorno da Indianapolis, buongiorno dalla sala riunioni, qua si terraffrano molto la riunione tattica prima della partenza per lo stadio dell'hotel Alexander che ospita la squadra arrivata da qualche minuto qui nella capitale dell'Indiana per preparare la sfida di questa sera contro il Chelsea. Chelsea ricordiamo, allenatore da Jose Mourinho che per la prima volta ritrova alcuni dei suoi giocatori di quando era allenatore della nostra Inter. Questa mattina sono 23 i giocatori pariti dal New Jersey per Indianapolis per questa sfida, sono rimasti ad allenarsi al centro del Red Bull gli infortunati, parliamo di Hobie, di Kovacic, di Zanetti appunto. Oltre a Milito, Mudingai e l'ultimo è arrivato Duncan, si è aggregato e il ventitresimo è l'Axalt, il giovane nazionale uruguaiano di cui è stato dato annuncio dell'ingaggio ufficiale, anche se l'abbiamo visto già lavorare insieme ai compagni da qualche giorno proprio nel corso della mattinata. Curiosità, avrà la maglia numero 93. A proposito di maglia, Inter questa sera in campo con la maglia bianca. Per quanto riguarda le possibili formazioni, per l'Inter potrebbe esserci lo stesso undici iniziale che è partito nel match contro l'Hamburgo, potrebbe essere, allora lo ricordiamo. Qual è stato l'ultimo undici scelto da Mazzari, Andanovic fra i pali, Campagnaro, Ranocchia, Juan Gisus, i tre della difesa, con Negatomo e Pereira sulle corsie, cambiasso il regia, Guarin Alvarez interni e la coppia Palassio-Icardi in attacco. Per quanto riguarda invece le scelte di Giuseppe Murigno, il modulo dovrebbe essere 4-2-3-1, quello più frequentemente utilizzato, anche se nella parte di preparazione con le amichevoli in Asia spesso ha usato anche il 4-3-3, ma la difesa dovrebbe essere composta da Ivanovic, Cahil, Terry e Cole, Ramirez e Sien, i due in mediana, Moses, Oscar e Hazard. I giocatori sulla tre quarti, Demba Ballapunta, ma anche Lukaku, da verificare se i nazionali brasiliani verranno utilizzati dal primo minuto a gara in corso, loro che, avendo terminato con la Confederation un po' più in là, si sono uniti al resto dei compagni soltanto da pochi giorni, quindi hanno poco lavoro nelle gambe, magari non verranno utilizzati se non per qualche scampolo di partita. Per quanto riguarda il proseguio qua della giornata, squadra che dopo pranzo e riposo qua in questa sala farà l'ultimo check, quello che non è il portiere, ma l'ultima verifica con la riunione tecnica, con Mazzari che darà l'11 iniziale, poi trasferimento allo stadio e per quanto riguarda la visione della partita, vi ricordiamo, in diretta questa notte su Sky, ma già domani nel Tg delle 13 potete vedere tutte le immagini principali della gara e soprattutto tutte le interviste del dopogara. E da Indianapolis è tutto. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...